Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con un nuovo video, oggi vedremo come una scemmia sconfisce un dinosauro. Ciao a tutti, quando vengo a cercare la scemmia, la scemmia è parte di Pony, e se il dinosauro è parte di Cattivi con me, ciao. Io sono il dinosauro. Io sono la scemmia, ma faccio fare questo, possiamo farlo vedere come sono forte. Io sono la scemmia. 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 No, no, no. 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 No, no, no.